I carabinieri della stazione di Domodossola hanno denunciato due ventenni e due quindicenni per lesioni personali aggravate. Vittima del pesante pestaggio, avvenuto lo scorso fine settimana, un trentenne del posto che stava trascorrendo una serata tra amici in un noto locale dell'Ossola. L'aver urtato involontariamente una ragazza, ha scatenato la reazione violenta degli amici della giovane che hanno iniziato a spintonarlo, facendolo cadere. Se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online, è live 24 ore su 24.